Paradigmi della complessità e la nuova silloge di Silvia Elena di Donato, pubblicata a gennaio 2024 dalla Di Felice Edizioni. Si tratta della seconda raccolta poetica dopo la maschera di Euridice. La poesia e la sua intensità che sono proprie dell'autrice vincitrice di diversi premi e autrice di diversi appuntamenti culturali ottenendo recensioni eccellenti. È difficile descrivere un libro e ancora più difficile descrivere una raccolta di poesie, ma ci può anticipare qualcosa di questo libro che credo sia già in commercio? Sì, certamente sì. Sono esperienze poetiche, sono testi che tentano di indagare una varietà di tonalità emotive prendendo spunto dalla quotidianità, dall'osservazione diretta anche di alcune dimensioni particolari. Fino ad indagare la speranza, il sogno e temi che hanno una maggiore caratura filosofica come la dimensione dell'infinito, la dimensione dell'eternità come pienezza del presente. Fino alla restituzione di esperienze che diventano eco di una varietà di incontri e di paradigmi appunto, paradigmi della complessità. Il canto del sapiente Facciamo sogno ogni nostro giorno Noi segmenti di un unico codice Non altrimenti vivi se non cifre Tradotte in pelle, inalfabeti e amori Misurate colonne rastremate fin sotto al peso delle trabe azioni O migrazioni senza gravità Come profumo di zagare e acace Visioni agli occhi della Edo cieco Che dall'inizio ci conobbe mito Perfetti paradigmi della complessità